A Nangrigento, nei locali della concessionaria meridiano della famiglia Graceffa, è stata presentata ufficialmente la Cupra Garage. Gaetano Ravanan. Marcello Graceffa, oggi è stato battezzato praticamente il Cupra Garage. In cosa consiste? E' un nuovo sistema di disposizione, un nuovo concetto, diciamo che i vecchi saranno oggi ovviamente più concepibili in questa maniera, è un nuovo di pietra di rendere l'esposizione. E' un design innovativo, progressivo, come il Mario, con l'immagine di Mario A. Vi invito tutti a prendere la pietra perché è veramente il mondo, è molto bello. E' anche un'esperienza di vendita, di acquisto particolare, perché è fuori dai canoni normali che noi conosciamo. Siamo alla vigilia tra l'altro di un anno, del 2024, di grandi uscite, di nuove novità. E questo lo spazio è nato anche per questo. In questo gruppo chiaramente noi, di Cupra, un pubblico, l'intenza, ci conosciamo solo per la Formentoro, per la Porro, ma nel 2024 e 2025 arriveranno tutta la gamma rinnovata, con la nuova Kavaskan o la Terra Mar, che chiaramente è davanti a una svolta definitiva al Mario e che già sta facendo molto bene.